Due bambini affetti da sindrome di Kawasaki sono stati ricoverati nel reparto di pediatria del Policlinico San Matteo di Pavia, diretto dal professor Gianluigi Marseglia. Le condizioni dei due bimbi di 7-8 anni sarebbero sotto controllo. Entrambi, come riporta il quotidiano Il Giorno che ha riferito la notizia, sono stati sottoposti a tampone, ma sono risultati negativi al coronavirus. Negli scorsi giorni proprio un possibile legame tra la malattia di Kawasaki e l'epidemia in corso di Covid-19 ha suscitato un ampio dibattito, alimentando anche molte preoccupazioni tra i genitori. La questione è attualmente dibattuta tra gli scienziati. Grazie per la visione!